E' vero che in Italia, sotto Berlusconi, la corruzione è diventata qualcosa di veramente spaventante, però si vede anche in altri paesi, in Bulgaria, in Romania, anche in altri paesi dell'Unione, questo cancro si riproduce. Dobbiamo insistere sullo Stato di diritto in tutto che facciamo. Abbiamo avuto questa lezione nel passato, non dobbiamo mai dimenticarlo. Certi paesi hanno organi contro la corruzione indipendente, questo secondo me è importante, l'abbiamo fatto anche a livello europeo per salvaguardare i finanzi del contributore europeo. Secondo me l'importante è anche che uno insiste su una cultura del rispetto della legge. Questa cultura deve essere presente non solo nel mondo giuridico, ma anche nel mondo del business, nel mondo del governo. Quale è la prima volta che il Parlamento europeo ha votato con una grande maggioranza di risoluzione contro la corruzione in politica. La idea è ora, e abbiamo supporto di altri gruppi di questo, di creare un speciale comitato nel Parlamento europeo per organizzare la corruzione e la corruzione. E' l'importante è la prima volta che il Parlamento europeo ha votato questo problema e ha riconosciuto che non è solo un problema in Italia, ma un problema in ogni paio, nella Unione europea. L'importante è la politica della lotta contro la corruzione, che sarà sempre con noi perché gli esseri umani non sono perfetti. Ma questa lotta contro la corruzione è molto importante. E' per questo che abbiamo bisogno di partiti come Italia dei Valori, partiti come Vesci Vereina nella Repubblica Ceca, per fare questa lotta. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.